Don Claudio, buongiorno. Vorremmo un augurio per il Natale e per gli sportivi della Valle Camonica. Un Natale che vi renda protagonisti, il messaggio di questi giorni. Lo sport è il vero protagonista nella vita sociale ed ecclesiale. È come un girasole, rappresenta una presenza che porta felicità e orgoglio. Un girasole è visibile e dà calore. Un girasole ha dei semi che sono la profezia per il nostro mondo. Un girasole ha un olio che è un servizio a questo mondo. Dunque, cari amici della Valle Camonica, siete veramente a servizio come girasoli, dando allo sport, alla società, alla chiesa quella bellezza che purtroppo qualche volta manca. Il vostro volto sia il bellissimo augurio fatto ai giovani di sport, amore e di buon Natale. Grazie. Grazie.